Allora, Italian TechSpeak, siamo qui a cercare di capire in che modo la tecnologia entra nelle case degli italiani e in che modo gli italiani si relazionano con essa. Oggi ne parliamo con uno che della tecnologia ha fatto proprio il centro della sua vita e cioè Davide Casaleggio. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto allora. Grazie. Da cosa cominciamo? Dalla tua storia tecnologica, quindi il primo ricordo tuo tecnologico, anche uno da bambino o uno magari di pochi anni fa insomma. Beh, l'M240 era il computer che era arrivato a casa, era un computer dell'Olivettia, quello appena dopo l'M24, che era distribuito anche negli Stati Uniti sotto il marchio AT&T. Al tempo, stiamo parlando quando andavo alle medie, più o meno. Al tempo passavo i pomeriggi interi a giocare videogiochi su questo nuovo aggeggio che era arrivato a casa, ma anche capire un po' come funzionava il DOS. Al tempo era qualcosa incredibile la città di Ivrea, perché io sono cresciuto a Ivrea, entrambi i miei genitori lavoravano all'Olivetti. Era destino che Ivrea avesse un ruolo da quel punto di vista. Sì, era la città dell'innovazione, anzi l'Italia era l'innovatrice. Si, si respirava questo nell'aria. Sì, 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 perché erano, c'erano persone che arrivavano da tutto il mondo. Mia mamma è inglese e si è incontrata con mio padre che lavorava all'Olivetti. A Ivrea si parlavano decine di lingue diverse, c'era una sensazione di innovazione continua, perché chiunque parlava di qualcosa di nuovo che stava arrivando. Era una bella sensazione. Senti, definiamo la tua posizione. Tu lavori per la Casaleggio e Associati, lavori per la piattaforma Rousseau e lavori per il Movimento 5 Stelle. Adesso lavorare magari un termine che ha delle implicazioni un po' alternative in questo caso. Esattamente qual è il tuo ruolo? Beh, Casaleggio Associati ha lavorato per tanti anni a costruire il blog. Inizialmente siamo partiti alla fine del 2004 a costruire, a progettare, a costruire questo blog. Poi quando è diventato una cosa un po' troppo politica, semplicemente abbiamo affidato tutto il software che avevamo prodotto a un'associazione senza scopo di lucro che è l'Associazione Rousseau. E da allora l'Associazione Rousseau porta avanti questo progetto e innova tutto quello che è stato creato. Senti, quando è nato il blog, voi immaginavate già che sarebbe successo quello che poi è successo. Voglio dire, anch'io ho avuto un blog, ma al limite parlavo del mio cane o parlavo di corse o parlavo di biciclette, insomma. Beh, qualcosa che sicuramente non pensavamo potesse succedere, ma abbiamo sempre cercato di innovare anno dopo anno e ogni ostacolo che abbiamo trovato abbiamo cercato di trovare un modo per superarlo. Abbiamo trovato diversi ostacoli e abbiamo dovuto fare diversi salti in avanti. Senti, il 2007 è l'anno del primo V-Day, quello famoso di Bologna. Che ricordo hai di quel giorno? Beh, quello è stato un giorno incredibile, perché è stato il primo evento nazionale in Italia creato senza il supporto dei mass media, senza che alcun giornale, televisione o radio ne avesse parlato neanche una sola riga fino al giorno prima. Il giorno dopo tutti lo hanno messo in prima pagina come primo titolo del giornale. Quindi è stata la prima vera dimostrazione che si poteva creare un evento a livello nazionale utilizzando solo la rete. Questo è stato il primo, la prima cosa, la prima dimostrazione vera della forza della rete in quegli anni. Cosa abbiamo fatto? L'altro è stato un elemento di consapevolezza, perché le persone che hanno partecipato a quell'evento, che è stato un evento in tutta Italia, aveva il centro a Bologna, ma in realtà in tutto il mondo, perché avevamo eventi davanti ai consolati da Sydney a New York, persone che davano i volantini. È stato un evento di grande consapevolezza, perché fino al giorno prima tutte le persone si erano viste tramite i commenti nel blog, migliaia di commenti nel blog, ma solo commenti del blog, quindi non c'era la percezione di persone in carne ed ossa. Quel giorno è stato un giorno di consapevolezza del fatto che esisteva un movimento di opinione. Certo, ti capita di rimpiangere il clima un po' naif che c'era in quegli anni, nel senso che poi quando i giochi si fanno complicati evidentemente entrano in ballo anche altri fattori. Ma non era naif al tempo, era molto nuovo, ma quell'evento è stato organizzato per presentare una legge di iniziativa popolare in cui dovevamo raccogliere 50.000 firme in sei mesi. ne abbiamo raccolte quasi 350.000 in un weekend. È stato qualcosa di eccezionale. Noi non avevamo mai raccolto firme prima di allora. Quindi per noi era comunque una sfida importante, ma l'evento stesso è stato qualcosa di eccezionale. Aveva un obiettivo serio, quello di cambiare una legge che per noi era intollerabile avere così tanti criminali all'interno del Parlamento. Tra l'altro nello stesso anno in Brasile hanno presentato la stessa legge di iniziativa popolare e lì è diventata legge subito e quindi il movimento che l'ha presentata si è sgonfiato. Qua non è diventata legge, è stata parghecciata in un cassetto del Senato e quindi abbiamo dovuto fare il passaggio successivo. Nel 2009 arriva Facebook, anche qui in Italia, ed è praticamente lo stesso anno se non sbaglio in cui ufficialmente nasce il movimento. C'è una correlazione fra le due cose o è soltanto una coincidenza diciamo di calendario? Ma assolutamente al tempo sicuramente avevamo già iniziato a usare Facebook ancora prima che fosse tradotto in italiano, ma non è stato determinante. Al tempo era solo una delle tante componenti. A generare il movimento è stata la necessità perché poi alla fine questi ostacoli che ci venivano posti all'utilizzo di strumenti di democrazia diretta creavano la necessità di andare oltre, di fare un passo in più. Come il fatto di non veder discussa la nostra legge di iniziativa popolare ci rese consapevoli che dovevamo entrare nelle istituzioni. Il fatto che Beppe, tra l'altro il suo consiglio di mio padre, si presentò alle primarie del Partito Democratico perché era qualcosa di visto come aperto per vedere se effettivamente funzionava questo sistema o smascherare eventualmente se era solo una finta al tempo. Beppe si iscrisse e disse che volevo partecipare. Poi in realtà l'intelligenza del partito dell'epoca disse che l'iscrizione non valeva e quindi dovevamo farci la nostra forza politica, come una delle persone al tempo disse del Partito Democratico. Il mese successivo è quello che accade, quindi venne creato un Movimento 5 Stelle. Senti, ha ancora senso parlare di democrazia digitale? Beh, la democrazia è sul digitale oggi, come oggi la televisione, la radio o qualunque azienda oggi vive sul digitale, è diventato un elemento essenziale, il digitale per qualunque operazione, qualunque rapporto sociale, quindi il digitale oggi fa parte della nostra vita. Però è autenticamente democratica la democrazia, nel senso che la democrazia consiste nel poter permettere a tutti di dire la propria opinione, però non sempre questa opinione può essere gestibile, verificabile. Come ci si comporta nei confronti appunto delle dinamiche digitali che, come sai, sono abbastanza complicate adesso ormai, no? Ma il digitale ha permesso un coinvolgimento importante delle persone su diversi contesti nel mondo della democrazia diretta, nel mondo della democrazia partecipata. Uno dei temi che stiamo portando avanti è la cittadinanza digitale, che è qualcosa che abbraccia i nuovi diritti. In cosa consiste esattamente? Ci sono questi diritti che noi oggi pretendiamo essere scritti sulla Costituzione, su una legge, che in realtà si sono evoluti nel tempo, ma è sempre successo nella storia, quando sono arrivati gli acquedotti ai tempi dei Romani e dell'antica Roma, sono arrivati gli acquedotti e le persone hanno iniziato a pretendere di poter bere l'acqua pubblica dalle fontane, non è un caso che c'erano 500 fontane pubbliche nell'antica Roma. È qualcosa che è sempre successo. A ogni grande passo tecnologico, Gutenberg, abbiamo la libertà di stampa, abbiamo il telegrafo, arrivano le banconote, abbiamo internet e ci porta, abbiamo anche un passo importante, per esempio è stato il motore a vapore che ha creato le condizioni per l'abolizione della schiavitù. Ci sono tanti momenti nella storia in cui arriva una tecnologia e scombina le carte e crea nuovi contesti per nuove regole, per nuovi diritti. Oggi internet ha creato l'occasione per trasformare i diritti che conoscevamo prima, come il diritto all'obbligo, il diritto alla libera partecipazione, all'associazione, si sono trasformati radicalmente. Dall'altra sono creati nuovi diritti. Per esempio il bilancio partecipativo, il fatto che i cittadini di una città possano decidere dove spendere i soldi della città è qualcosa di nuovo che oggi è possibile grazie alla rete. Oggi si fa a Roma o a New York o a Parigi o a Buenos Aires dove è partito. Ci sono nuovi diritti che oggi possono essere pretesi da parte delle persone. Ci sono nuovi diritti ma ci sono anche nuovi doveri. Nel senso che ogni cosa nuova che arriva si porta con sé anche delle controindicazioni. Secondo te in cosa andrebbe corretto l'uso diciamo della comunicazione anche politica? Perché è indubbio che ci sia qualcosa che non quadra in tutto questo. Sicuramente c'è qualcosa che non quadra nella comunicazione politica e questo lo do per certo ma forse abbiamo punti diversi, punti di vista diversi perché io credo che negli ultimi anni le più grandi per esempio fake news che hanno avuto un impatto politico vero in realtà sono originate dai mass media classici. La più grande fake news forse degli ultimi anni credo sia stata quella dell'Iraq, del fatto che ci fossero delle bombe nucleari in Iraq e questo ha causato una guerra. Recentemente purtroppo abbiamo visto anche in Italia che un foglio fatto su Photoshop pubblicato su un giornale spagnolo già solo due settimane fa ha creato un interesse da parte di tutte le testate italiane. Ora purtroppo quando poi si sono accorti che era solo un falso, una bufala, non hanno dato così tanto spazio al fatto che fosse una bufala. Quindi quando parliamo di fake news in realtà io oggi penso che sia da indirizzare soprattutto la carta stampata, la televisione, i mass media tradizionali. Sul digitale sicuramente bisogna pensare se è vero quello che dici sui mezzi convenzionali vale anche per il digitale questo. Certo, oggi hanno un impatto diverso. Infatti sul digitale noi come blog, prima parlavamo di blog, abbiamo visto ben quattro disegni di legge proposti nel Parlamento italiano contro il blog negli anni dal 2008 in avanti. C'erano continuamente queste proposte di legge contro il blog. Ora bisogna separare bene gli attacchi verso i nuovi media perché si vedono come concorrenti con quelli tradizionali dalla libertà di espressione e dalla libertà di informazione corretta. Sicuramente un tema che oggi andrebbe indirizzato è il fatto che a decidere se un'informazione è corretta o meno o se si possono censurare o meno delle pagine probabilmente non dovrebbe essere una società privata, soprattutto poi se ha sede anche all'estero, è cosa che oggi sta succedendo. Quindi questo è il tema che secondo me oggi bisogna riuscire a indirizzare e creare delle condizioni perché sia la comunità, la collettività a decidere quali sono le regole di indirizzo per questa libertà di espressione piuttosto che la libertà di corretta informazione. Torniamo alla comunicazione classica. Fino a prima dell'arrivo di Facebook le campagne elettorali erano gestite fondamentalmente dalla televisione o dai giornali. Ricordiamo la discesa in campo di Berlusconi che ha scompigliato tutto quanto. La televisione secondo te ha ancora un ruolo importante, i giornali hanno ancora un ruolo importante. Un giornale di prima fascia 20 anni fa vendeva un milione di copie e ora ne vende 100.000. Ma hanno lo stesso peso da quel punto di vista? Sicuramente il peso è cambiato radicalmente. Come abbiamo già visto già dal 2007 non erano più essenziali i mass media. Sono importanti. La televisione è ancora importante per una fascia di popolazione in particolare perché poi alla fine le persone che conosco io direttamente, io personalmente non guardo più la televisione direttamente ma anche le persone che mi dicono sì ho visto quel talk show, ho visto quella trasmissione e tendenzialmente hanno visto uno spezzone su Facebook piuttosto che YouTube. Quindi si sta trasformando radicalmente l'utilizzo dei media e si stanno fondendo sempre di più con la rete. Senti cosa fa la piattaforma Rousseau esattamente? Beh la piattaforma Rousseau è uno strumento che permette agli oltre 175.000 iscritti del Movimento 5 Stelle di partecipare attivamente alla vita politica e pubblica del Movimento stesso. Oggi ha 15 funzioni, la più famosa è quella del voto che per esempio è stata utilizzata per dare il via a questo governo quando abbiamo avuto un record mondiale di partecipazione a una singola votazione in un solo giorno con circa 80.000 persone che hanno votato per dare il via a questo governo. Ma in realtà i voti oggi ne abbiamo circa uno ogni 20 giorni dal 2012 ad oggi, quindi è qualcosa di continuo, di ormai consolidato. Ci sono altre funzioni che permettono ai consiglieri comunali di condividere i loro atti, migliorarli a vicenda, pubblicarli magari da un comune all'altro, piuttosto che strumenti di formazione. Ci sono tantissimi corsi anche aperti ai non iscritti per la partecipazione alla vita pubblica, quindi sapere come funziona un Parlamento, come leggere un bilancio pubblico, tanti corsi che permettono alle persone di informarsi e diventare attivi. Ho letto da qualche parte che tu vorresti creare un sistema di voto con il meccanismo del blockchain. Sì, questo è qualcosa su cui abbiamo lavorato e abbiamo tra l'altro presentato anche un prototipo lo scorso anno, stiamo continuando a lavorarci. La blockchain è oggi determinante in molti processi, si stima che avrà un impatto sul 10% del PIL mondiale, quindi avrà un impatto molto pervasivo su tutti i processi. In particolare sul voto permetterà di avere una certificazione distribuita mantenendo un voto segreto. Quindi questo è qualcosa su cui stiamo lavorando. Abbiamo utilizzato la blockchain Monero, che è una particolarmente nota per la sua privacy nella strutturazione proprio del software e quindi sicuramente vedremo sviluppi in futuro. Ci sono paesi in cui c'è già il voto elettronico? Beh, ce ne sono tanti. Molti paesi hanno iniziato dai contesti in cui è difficile per i cittadini partecipare. Non so, in Australia e l'hanno previsto per le persone che sono a più di 20 km da un seggio elettorale o le persone non vedenti o le persone che non si trovano proprio nel paese. Infatti il tema è soprattutto legato a come fare a coinvolgere le persone che oggi non votano o che potrebbero essere più stimolate a votare. Un esempio classico è quello dell'Estonia, che ha già iniziato nel 2005 a fare le votazioni online per le politiche. Oggi più del 40% dei cittadini estoni vota online alle politiche. e lì hanno visto come ci siano dei benefici sia in termini di costo, più che di mezza il costo per la gestione della votazione, in termini di tempo, rispetto ai 24 minuti, in media che ci si mette a votare in un seggio tradizionale, ci si mette 90 secondi. E soprattutto aumenta la partecipazione e lì si vede come non l'aumenta nei giovani necessariamente, che sono gli stati primi a capire come funzionava, ma soprattutto nella fascia più anziana, perché sono le persone che hanno più difficoltà a recarsi al seggio. Per cui il tema del voto digitale oggi si sta imponendo a livello internazionale. Senti, torniamo indietro al 2005-2006. Quando avete cominciato a costruire il movimento, c'era qualche altro movimento simile? in giro per il mondo, qualche esperienza simile che vi ha un po' ispirato? Ci sono tante esperienze di partecipazione digitale delle persone, dei cittadini. Forse il primo esempio è stato quello nel 99 del WTO, in cui è stata utilizzata per la prima volta la rete per far partecipare le persone direttamente a quella protesta contro il WTO dell'epoca. Però l'anno prima, nel 2004, l'anno prima in cui partimmo col blog, c'era Howard Dean negli Stati Uniti, che era un governatore del Vermont, quindi uno degli stati più piccoli o più dimenticati negli Stati Uniti, che riuscì a diventare uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti. E ci riuscì utilizzando la rete. Infatti utilizzò i meetup e quindi iniziamo ad utilizzarlo anche noi. Tu sei un appassionato di scacchi, almeno è la prima cosa che salta sempre fuori quando uno fa una ricerca con il tuo nome. Gli appassionati di scacchi hanno molta pazienza e sanno più o meno qual è il punto d'arrivo e sanno che per arrivare a quel punto d'arrivo devono passare attraverso anche alcuni sacrifici. Ti c'è voluta molta pazienza in questi ultimi anni? Il movimento ha attraversato dei momenti anche un po' complicati al suo interno. Per esempio, questa rappresentatività dell'uno vale uno, è una cosa che ha ancora senso secondo te, dopo l'esperienza fisica che avete fatto? Penso sia importante capovolgere la questione. Parlando di scacchi, sono importanti gli scenari. Ovviamente non tutti sono prevedibili, ma è importante capire quali sono i più probabili e quali sono quelli che si vorrebbero creare. Ed è per questo che è importante riuscire a progettare, ma anche nell'innovazione, nella tecnologia, è importante capire su cosa puntare, su cosa effettivamente diventerà diffuso. Qua ti ho portato un coniglio. Cos'è questo? Questo è Navastag. Nel 2008, questo è l'antenato, il bisnonno di Alex e di Google Home di oggi. Di quanti anni fa? Del 2008, quindi più di dieci anni fa. E questo è un oggetto che già funzionava, già ti leggeva le email, ti diceva il tempo. Però tu dici che era troppo presto? Non ci hanno creduto abbastanza. In realtà il tema è che la necessità esiste, potevano crederci un po' di più, tra l'altro è molto più elegante il coniglio che gli oggetti che oggi vediamo. Per cui forse non ci hanno creduto abbastanza. Ci avessero creduto di più, avrebbero capito che quello era lo scenario giusto. Per cui è importante capire lo scenario e riuscire a progettare e fare in modo di passare da tutte le curve che bisogna passare, ma arrivare all'obiettivo. Avete appena pubblicato una cosa che dice niente sarà più come prima, legato un po' alla pandemia e a tutto il resto. Credete che possa essere utile? C'è un modo in cui la tecnologia può aiutare? Beh, sicuramente in questi mesi anche le persone che erano più lontane dalla tecnologia hanno capito che la tecnologia può aiutare, può cambiare la vita delle persone e la vita delle aziende in questo periodo. Una foto che mi è rimasta in mente in questi mesi è la foto di un medico che distribuiva le ricette dalla finestra con le persone in fila sul marciapiede, questo a Napoli. Ora, penso che questo tipo di scene non sia all'altezza dell'Italia. Oggi è possibile fare delle visite a distanza in alcuni casi, per esempio in Gran Bretagna stiamo utilizzando un'applicazione che si chiama Babylon che è autorizzata dall'NHS. Penso che questo potrebbe essere fattibile anche in Italia, ma anche la carta di identità elettronica unita allo speed per poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione in remoto. è qualcosa che è necessario, è inevitabile. Bisogna riuscire ad accelerare questa direzione. Solo quella avrebbe un impatto del 3% sul PIL con un investimento abbastanza limitato. Ora, la digitalizzazione del paese, dei processi, dei servizi che noi oggi conosciamo è inevitabile. Anche l'e-commerce è cresciuto enormemente. Solo negli ultimi tre mesi probabilmente ha fatto un salto avanti di 5 o 10 anni addirittura. Senti, la domanda con la quale chiudiamo sempre questi incontri è qual è l'invenzione che speri di avere il tempo di vedere. Tu sei molto giovane, quindi ne hai di tempo. Però c'è qualcosa che speri arrivi sul mercato o comunque nella nostra vita diciamo entro i prossimi 10 anni? Beh, io penso l'elettricità gratuita sarà quello, o a costo zero, a costo molto limitato, sarà quello che cambierà le dinamiche di geopolitica, di bilanci commerciali, anche di società che oggi conosciamo. Un po' come qualche anno fa, una decina di anni fa, pensavamo che telefonare al nostro zio d'Australia fosse qualcosa di costosissimo perché la telefonata era qualcosa di molto costoso. Oggi con i social media è immediato, non solo gli telefoniamo, lo vediamo, ci scambiamo i documenti, ci scambiamo tutto quello che vogliamo. Penso che l'elettricità gratuita sarà il prossimo salto che noi vedremo e avrà cambiamenti importanti. Cosa succederebbe se l'elettricità fosse gratuita per tutti e non dovessimo pagare la benzina o altro? Avremmo una macchina elettrica. Avremmo sicuramente una macchina elettrica e probabilmente non dovremmo pagare benzina o gas di importazione estera. Benissimo. Davide Casaleggio, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.